QUARANDA CHILLO! Ma tu sai che significa? Io c'ero quasi però... Non l'hanno tolto i glitch della silinga pizza. VINTO? Sì l'ha vinto. VINTO? VINTO? Quante chi l'hanno fatto? 32,21,123, MADONO! Poverino quello che ne ha fatto tre però... C'è la minchia repugia, bro. Dei fegge. Uno dei fegge che fate tre kill. Uno dei fegge che fate tre kill. Bella Max. Buongiorno Ale. Buongiorno Ale. Buongiorno Ale. amico. eh eh eh... I hots... Oh infine? Ah, no! Sì, sì. e ci facciamo qualche winnors insieme al nostro amico pizza ma è proprio ah è cresciato pizza wow no ci facciamo qualche mi sembra che se fosse però il tipo del tempo dell'erba non è 3d quindi la vedi 2d 3d di rialzamento Annaggia dopo che pace è provocato, non ci devi il posto qua che nella montagna non ci devi per voi, diventi la cavalo del loro del bacacano sono indispensabili per me Pizza ma che cazzo è sto bordello aspirapolvere? Aspirapolvere è l'arlane Eeeh sta musma che cazzo metti a guardarci schianto mentre te giochi Ste pol- abbassa Ci sei Max? Dai lo invito anche Ale Un rolletto Misciaggi Ciao 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 Pizza Pax non ti vedo invita Ti invito tramite il tuo invito Pizzà ha voluto stare live Non mi spaccano le orecchie frate Si Amplificatore Oh mi chiedo che c'è l'amplificatore Uè schianti ti avevo beccato come tagliate Ti stavo chiamando ti hanno stillato la kill Ma fu le sorrische Sì 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 Ma quale c'ha i I 7000W? Quello Quello Che si mettono nei impianti dei palchi Mi chiede Mi chiede Mi chiede Mi chiede Mi chiede Un attimo di mostro Mi chiede Un attimo di mostro Uhhh Gli schianto, grazie per i bit, bello, buongiorno Robby, grazie per i 10 bit, grazie per i 10 bit, bello, grazie per i 5 bit, bello, grazie per i 5 bit, bello, il maestro, come notifica no, apposta che esce quella schermata e dice, grazie per i bit, bello, ma ieri mi tenevi come taglia, il giro lasso ieri, non mi ricordo, ma c'è pure il bit, bello, Certo, cerchiamo di fare qualche partita recente, anche se è la prima partita, Amore! Se giochiamo come ieri, le vinciamo tutte, Hai mai giocato di mattina? I lobby sono un poco più semplici, Si spera, Si spera, Tu puoi incontrare anche la mattina dove prendi solo gli schiaffi, Ma ci stanno lamentando, Si stanno lamentando anche di mattina, Cioè di mattina, Ma regà, Ma che c'è? Necro! Morto! Oh caccia, Pure l'elicottero! Venite, venite, venite! Guiz! Poi pizzo la sale sul camion, Un balono! Vediamo lo shop! E poi che si mette a dormire in live, E ci schianta? Io l'avevo visto nello primo giorno, E quanto dura sta cosa? E allora, Ma thóhs sta rovinato, Sta rosinato, Se sta rosinato, Sta rovinato, C'è Matteo Hs che deve scontare tre minuti, Cosci è unbuildo, Faassas, Eppole, Non c'è munizioni, Per farlo il cuirai, PerEveryone, Minchia traffic at For sure Buschoo incazzatissima, Cos'è un duo Incazzation Cerchio Dopo Attra E l'altro è givappato Ha pappato Venite qua Venite qua Io Venite qua Venite Voglio una mano Sono morto Un altro Mamma donna Ho detto io Oh Oh Non lo pingo No Forse è in volo Non si è in volo Non si è in volo C'è chi sei una lotta Facciamo una bianna Vabbiamo Sì Non si è in volo 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 come parlo come se non si procede per il vento bau muoviglio la caccia scusami ma tranquillo entrato quella madonna è incazzatissimo questo ieri in duo eravamo in quartetti eravamo l'altro ieri grazie per i guadvi bello vedete il camion c'è ancora troppi se guido io macchina 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 ma facciamoci questo mi dissocio mi dissocio c'è una ricognizione senso di tomba non ho sentito c'è un amico raga ma no ma che di che cosa stiamo raga ma no ma di che cosa stiamo parlando raga che si tratta di scuola roma roma questo mi staffa roma 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 da tutt'altra parte il gioco non regale l'hdr non è una palestra l'hdr insomma città c ok ok rega e si sono da pushare la madonna lo pusho lo pusho a terra morto un altro città si 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 bro lo sto dicendo una a destra una a sinistra una a destra una a sinistra qui mmm aspetta 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 s raggiù da mattia, raggiù da mattia che è meglio nei fatti così, non pensiamo a restare, guardi giù oh c'è chi da destra? c'è chi da destra matti non lo so dove io spero che non sia di nuovo lui matti no no l'ho chillato, non può essersi risciuto in due secondi eh ok ho capito, questi fanno i gulag in due secondi, bi bro no me lo trovo io, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo lancio, lo lancio ma quanti lanci sono? sono 6 lanci hanno arrestato? il compagno ritorna in azione, 6 lanci addirittura mi dice se metri uno in volo sbeto classe anch'io attento che uno va su tutto eh ecco mi sposto no cecchino no raga ninja ninja valla max eh scendi god eh scendi coglione madonna ma dai il chilo è più forte della max ma che stai a dire? eh si frede eh scesi sceso? mi muovo di qua ti fidi dimmi quando te lo dico ha rotto i coglioni questo cecchino raga nessuno c'è il cecchino no il compagno ritorna in azione assenti ci servono colpi e... e piastre fatti che piastre blocchi posso lanciare la cassa? colpi e piastre colpi assalto c'è un po' di fondo c'è un po' di fondo pò eh scendi ti fai dati al tutto ote il .. vi vi pò il Sc la sta scappando stagliamore coppia ma come sta scappando addirittura c'è la ground stagliamore C'è, sono due, eh? Eh, sono due Eh, sono tre Che mazzo Mi fanno Bene Non è che mi viene a arrestare Ragazzi, continuiamo a giocare così Com'è bello giocare così Tutti uniti Grazie, mi viene in pittà, bello Grazie, mi viene in pittà, bello Sì, ragazzi, dobbiamo fare una vicina L'altra gente che è finito Per andare a lancio Ma io, no, bro Eh, dai Mamma mia Daga, sopra ne su quattro sicuramente Voi ci provo Vado prima io, vado prima che lascia i soldi Ficca, non sparare però No, facci un sparare però Facci salire, facci salire Posso salire? No, 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 spero, non puoi salire Oh, cazzo Ma zio, sei troppo lento Sì, sotto di noi Sì, sì, sì Sì, sotto di noi Sì, sotto di noi Sì, vedo, li vedo, li vedo, li vedo, li vedo Ma vado certo Non vi vedo I vado Sì, è che sono Mpro Di Bitro Poi la rega mi ha pushato uno Ale tu che eri sopra ce l'avevi a destra Ce l'avevi Sì Bella Fabia Mi mi va a restare 6-6-3-16 Che lì Stava qui dietro stava Madonna non lo vi dico Madonna Soldi 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 raga Vabbè No no fai lancho Fai lancho e poi fate uavvi Eh ma non è lobby infatti questa Alla prima safe dove devi essere ancora in 114 Alla seconda Versaglio taglia identificato Raga appena appena buttato un paio al ferro Dite me lo che c'ho per mandamento eh Fu ria fu ria fu ria Minchia pure io Che bomba da me Versaglio taglia identificato Un free kill Ma era easy proprio Arriba signori Sì è tutto libero per il quale nel momento La SF2 Rega mi sto senti un po' con Mutex Io è zero Ma è di super? No no Che ne pensate Cosa? No Non voglio buttare Sta portita Dovemo fare due a destra e due a sinistra Eh ma se si mettono Se si mettono tutte e quattro dalla stessa parte Rega macchina 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 Rega adesso vogliono salire Oh rega questo è crashato È free kill Oh mio dio È crashato è crashato è crashato è crashato Regione bombardamento di precisione alleato in arrivo Rega comunque manteniamo sta posizione Io penso che sia buona Eh allora manteniamoci Mettiamoci vicino alle funne Se dobbiamo vincere vinciamo Se dobbiamo vincere vinciamo Se dobbiamo vincere vinciamo No vinciamo vinciamo Si fanno il filo Sì ma sono un sacco di persone Sono un sacco di persone Ma si resta un po' più dietro Ho detto così rega Rega attento siamo al tetto bing bionna Sto controllando Sto controllando Ah le 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 Un po' più distante Le In movimento Lo vedo di nuovo Mi muoce C'è chi non lo so Lo sciacquo del triangolino Ma chiede rega spingiamo sta partita Non lo so Dico per la win Un team sta sul palazzo Un team siamo noi Stanno altre 10 persone Un team sta sul palazzo Un team è un team Ho fatto da poco Sì sì Pizza Pizza Ascolto Dirò un team da qua Smira Ne rega con i scecchini Da sopra il palazzone Un team è un team Eccoli Eccoli Stanno sparando Un team è un team Un team è un team Un team è un team Spinfart No Un team è un team Un team è un team Ancione che t'hanno detto oh free kill free kill max tu che hai l'rpg serbi oh ragazzi bussano che cazzo di push raga raga coprite le scale coprite le scale questi ci bussano oh ma quanti stunnano no max si ho detto io che non mi piacerà più sto cosi eh bro io sto divappando almeno ci provo pizza sto tentando il res oh merda sono napoletano dario raga dovete venire da me è la mia posizione questa facciamo anche il res facciamo la voglio proprio buttare sta partita pizzi no pizzi ma che cazzo è muni audio si attenzione bon marcamento di precisione alle atti d'arrivo no occhio pizze che qua c'era formata ressa 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 pizzià o cosa fermata sta macchina raga ma dove vado no no raga servono cure urgenti raga 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 4 ok ok la sefasso per raggio cerchillato No, vabbè, ma quelli che non ci sono cagati sotto di niente, nemmichia, guardateci, chi lo è stato. Punizioni qui. Vabbè, ma quelli che non ci sono cagati proprio sotto, eh. C'erano spinto proprio tipo 7 stun, 3, 4, 5, 10, c'era la vostra cosa. Ah, no in the west. Vabbè, ma intenso. Regà, mi devo mettere il cecco perché qui nessuno lo usa. Eh sì, ma perché qui non lo usa nessuno il cecco, vero? Lo potrei usare io, però ho cambiato giusto per il mio nome. Ma prendo io, ti conto che lo sai, lo sai, lo sai. Vai, lo sai, lo sai. Sì. Ritaccio un follo. Non mi costringirei. Dai, pizza, metti su 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 e qui. Mi raccomando adesso, lo è, di shot quelli sopra gli elicotteri, il team con un suo colpo. Eh, vai. Eh, sennò che lo metto fa. Ma mi devo fare a segnalare, no? Sì. Sì. Per quello si usa la beccia, pizza. No, abbiamo, ma cambio perché mi piace cambiare, ma ti, non mi piace, ho sempre la stessa classe, vedo. E tu vedi, io ho fatto di lascio nel simbolo su Facebook, si asquiccio. Vabbè, no, grazie per il bit. 5 kg, 3.200 di tani. Vabbè, no, grazie per il minuto. Oh The fuck no rift emits Ah boh, ah boh C'è un citero di sicuro Giocatore che ha Io ho l'autocattivo Giocatore che blocca anche i giochi da PC No, no, da WPS Non va a bloccare i giocatori Non ho bloccati tanti, voglio ieri ne ho bloccati meno 5 No, non ti faccio Allora Allora, sono 123 a me Di cui 23 presunti E 100 su sicuriciter Di cui tutti giapponesi Eh, fratello Lo sbaglio ci dica un po' No, e quanti ne sono? Si Si La maggior parte sono pure cinese Allora 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 Quчно grazie per il quattro bit oh rega ma che cazzo ma chi è crashato c'era c'era raga c'era un figlio no 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 io no voglio chi è leader grazie per i sette bit grazie per i bit bello grazie per i quattro bit grazie per i quattro bit c'è il nome momento di gisande grazie per i quattro bit allora tu quanti punti canale hai i punti canale sarebbe il controllo che ti esce sulla sinistra 3.000 perché se non so nemmeno cosa servono nulla se ci clicchi sopra vedi un paio di rob a te cosa cambia a te servono questi punti canale no a me sono infiniti i punti sulla sinistra della chat dove si può scrivere che c'è che posso riscattare aeree compenso e' mo' show e' mo' show su un mondo posti su un mondo su un gioco ma che cazzo forse ho guardato su tind ne ho 45 ma serio? si si tind c'è un 45 su un mondo 80k ah io c'ho gli ho infiniti sulle mie ma che serve? ma il vip a che serve? non lo so però con 800.000 punti ti da un vip per sempre non è l'abbonamento il vip max a che serve il vip? non lo so niente niente dai niente dai uno è importante per... per... per l'esame ma quanto? ma non posso quanto quanto? eh ok comunque è comuni ci vogliono 800.000 eeeh eeeh per giocare con moonride eeeh no no per giocare con lui ci ne vogliono 300.000 e Nick ma dove andai? dove sei andato? noh ed è stata i 3000 in volo guardate il mio danno Sì, il coltello non ho one shot da più. No, perché sennò pusciavi i full team con il coltello, tutti addosso, e coltello new meta. A lei mi ha riempito alla chat di bitta! Ci schianto! Una macchina! Una macchina! Buongiorno Edoardo! Sì, prendiamo il drop! Max, tu RPG! Poi si bella ogni volta che c'è un veicolo, tu lo usi e non fa nulla! Eh, troppatemi soldi! Ve li troppo io, regà! Ok, la taglia all'elicoltro, l'elicoltro è la taglia! Oh, raga! Full team! Oh, non ho riempito! Non ho riempito! Non ho riempito! Fammi vedere un poco Che vuoi fare con questo Cecco Fai vedere un poco chi sei Minchia Oh bro 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 Ma che armà Il far frate Io col bullfrog non riesco a killarlo Non siamo seri Iniziare a sparare pure prima io Stai iniziando uno scontro Preparati a combattere Sei il prossimo No bravo non lo dire Vai Max Max Let's go Max Dov'è Cioviz ancora Perciò questa è una primer cosa E' una unica Moda Ehm Fai arrivare Bocca Ma Fai arrivare Sì sì morto Fai buono il buce che è di pizzi . Certo roma e se ti voglio provare un gioco roma per noi un po a ma mai a livello di estetica lo sciopato cassa piastra non vale la proposta obbligate ti dispiace molto presto ma ci credete cosa? se buggate il cecchino in che senso? nella volta hanno conciato per le feste il vostro compagno vi arresto, rispediamo alla volta devo prenderti mh sa non fare di tutto per non farti usare il cecco gioco di merda te lo dico, questo è un gioco di merda ora ti arrangi con le armi che ho reso dalla terra no, lancio dopo figlio di nuovo no, ma ti progli di fila vuoi 85 colpi perchè? glieli di fila ma oh, non ho rissato madonna ma questo bullfrog è più forte va, batteria va ma che ne so guarda che è più forte oh, li vedi fino dallo sciopo di flora che non si vede un cacchio si chi sei preso il mio amaz? eh, bro, forse io eh, è nero, è nero, è nero andiamo a scendere il lancio si, si è scuro, ok ho la capo in casa per questo eh, bro, via, no, si vieni qua te lo ridò, bro aspetta, hanno pure le armi di questi che abbiamo pillato eh, vabbè, un tanto che ci arrivano eh, vabbè, un tanto che ci arrivano poi facciamo avvie, raga fucile da salto trovato vabbè, ora scendo il lancio si, si, vabbè, io prendo di nuovo cecchino ma forse che hanno arrestato? boh sei la guadina vi serve una ricognizione qui già con 3-0 oh, come sono belli sui abitoni di iniziato belli, eh? mi raba mi raba una nuova donna sicura ignorate ehi! guardate là qua! guardate! guardate! sto via il compagno e poi se ne scappa esatto esatto ma che figlia del villato? ma che dove le villato a quello? no non ho capito il troppo a 300 metri tempo mark un pt mazzù buona ed è felice a far live anche di mattina Eh bro, c'è la bambina? Ah, c'è una bambina piccolina? Si, si Vado! Tenetemi un po' Quante anni ha? Cinque anni, ora fa sei anni la costa Ah, macchia mia! Più grande di me Non è più grande di me Io vedi qua Vado, io ho 26, bro Oh Ah, ok Eh, chi guida? Si sono messi sopra la macchina Abbiamo fatto tutto Sbuttalo, vai C'è la lancia a patate Hai la lancia a patate 3, 2, 1 Vado! Inchia, Max, ma lo sai usare, dai Esci, non vedo Oh Devi imparare ad usarlo, comunque, Max Ma non vedo niente C'eri tu davanti Oh, Max, 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 Max Eeeh, da un sale Vai Sbuttalo 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 Chia Sbuttalo Uschi Sbuttalo Sbuttalo Ma fa cagare brosto coso Sbuttalo 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 eh, è bravo bella ma ciao 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 mi fa cagare sto mio pulso ma devi saperlo usare no, io so scarso, non lo so usare è fortissimo dai, ma è fortissimo ho visto ma è fortissimo max non esce aspetta che lo aspetta oh max ti aspello tutto ti aspello oh no, è uscito oh ma chi è quel pro player che ha fatto 56 kg non è uscito ma bro, che era uscito quello sparava senza mirare non ne prendeva uno dai mica, no, ve lo scava tutti no oh boh, ma era bravo 55 kg, madonna ma era bravo non c'era non ho mai fatto 56 eh non ho mai fatto 56 eh eh, la gente non sa giocare a queste eh, bro Ok, ragazzo. Bullfrog Ciao Francesca, oh, porco duro buf, fa schifo no, bro, la Usamutex è forte, dai, mica, c'è un fatto che la Usamutex c'ha una connessione, c'ha gli entrano tutti i colpi e io con 70 capisci un poco, no? eh, bro, eh, cosa c'è di rimedio? un lc è la stessa cosa c'è un giocatore che è bloccato, un altro settaggio è bloccato solo, secondo me è bloccato player norma no, che tu vuoi sci... no voglio giocare con real cheater, ok? voglio distruggere il cheater con real che tu stai tu sei... un lavoro ti dico per donare tu sai, tu sai tu tu sai, tu sai, tu sai, tu sai tu sai, tu sai Grazie a tutti. Grazie a tutti.